Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Titanfall 2 in questa nuovissima guida dedicata ai Titan e nel corso di questo video voglio analizzare il Titan Legion mostrandovi quelle che sono le sue abilità, punti di forza e debolezza e indicarvi quali sono a mio avviso il kit Titan, il kit Legion e il kit Titanfall migliori da utilizzare. E iniziando subito, Legion come modello di Titan sarà un tank piuttosto massiccio, scarsa agilità, elevata salute ed elevati danni. L'arma che utilizzerà sarà il cannone Predator, una mitragliettrice a canne rotanti con due modalità di fuoco, uno per il close range e una più precisa per le lunghe distanze. Arma non troppo efficace sul colpo singolo ma in grado di infliggere danni continui e consistenti sulle lunghe raffiche. L'abilità nucleo sarà Astuzia, quando attivata vedremo l'interfaccia olografica cambiare, avremo munizioni infinite quindi per tutta la durata non dovremo ricaricare e agganceremo automaticamente i bersagli sia i Titan che i piloti. Dunque non dovremo nemmeno preoccuparci di prendere correttamente la mira e questa abilità ci consentirà di uccidere molto facilmente i vari piloti che proveranno ad esempio ad agganciarci o ad aggirarci, eventuali piloti che si lanceranno fuori dal proprio Titan ma ci permetterà anche di non mancare un singolo colpo anche contro i Titan stessi. Dovremmo dunque valutare correttamente quando attivare questa abilità data la sua durata limitata. Proseguendo partendo dalla terza abilità troveremo cambio modalità e ci consentirà di cambiare la modalità di fuoco sul cannone Predator dunque di passare da una normale mitragliatrice a canne rotanti perfetta per il close range e senza zoom ad una modalità di fuoco più precisa con un leggero zoom quando in mira e in grado di sparare raffiche più precise adatte alle medio lunghe distanze e naturalmente viceversa. La sua prima abilità sarà colpo potente e avrà due varianti in base alla modalità di fuoco che staremo utilizzando. Con la modalità a distanza ravvicinata legion sparerà una raffica di proiettili dal suo cannone Predator in grado di danneggiare e allontanare i nemici vicini. Con la modalità a lunga distanza invece il cannone Predator sparerà una raffica di colpi precisi che danneggeranno tutti i nemici sulla traiettoria. Infine la seconda abilità e abilità difensiva sarà scudo arma. Quando attivata intorno al cannone Predator verrà generato uno scudo che coprirà parte del nostro Titan e ci consentirà dunque di resistere a parte dei danni in arrivo. Parliamo dunque dei tre kit. Nel kit del Titan solite sei abilità. Cipa assalto, autoespulsione occultata, motore turbo, super nucleo, espulsione nucleare o contromisura pronta. I tre che vi consiglio sono cipa assalto in quanto vista l'arma utilizzata legion è ottimo anche come auto titan, motore turbo che ci consentirà di avere uno scatto aggiuntivo o in questo caso visto che legion di base non ne ha di averne uno ed infine esplosione nucleare che come al solito è un ottimo piano b. Per quanto riguarda il kit legion potremo scegliere tra munizioni aumentate che aumenterà la scorta di munizioni del nostro cannone Predator da 100 a 140 proiettili, matrice dei sensori, il nucleo astuzia dura più a lungo, baluardo, lo scudo arma blocca al doppio dei danni, leghe leggere, muoviti più velocemente mentre il cannone Predator si sta avviando oppure compartimento segreto che ci consentirà di poter portare due cariche di colpo potente. Il mio consiglio è di utilizzare o matrice di sensori in quanto l'abilità nucleo di questo Titan è ottima e ci consente di eliminare molto facilmente ogni tipo di nemico o compartimento segreto che ci consentirà di sfruttare maggiormente i colpi potenti. Abilità in grado di massimizzare i danni e consentirci dunque di avere un grande vantaggio contro gli altri Titan. Per quanto riguarda invece il kit Titanfall la scelta è molto personale, andranno bene entrambe le alternative. Parliamo infine dello stile di gioco. Il Titan Legion sarà il classico tank, grosso, imponente, massiccio ma con scarsissima mobilità. Sebbene la mitagliatrice Predator sembrerà essere poco efficace, raffiche prolungate abbinate a colpi potenti ben piazzati saranno in grado di dimostrare il contrario e soprattutto grazie alle due modalità di fuoco, Legion sarà in grado di essere efficace sia sul corto che sul lungo raggio e l'abilità nucleo altra non farà che massimizzare il potenziale del Titan, sfruttando al massimo quelli che sono i suoi danni, la sua precisione e l'autonomia del suo caricatore. Infine al contrario di altri Titan non dipenderà strettamente dalle sue abilità ma dal proprio posizionamento, dalla propria mira e più in generale dalle proprie abilità. Dunque ragazzi per quanto riguarda il Titan Legion è tutto. Come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento, pertanto vi invito a lasciarmi il vostro feedback, iscrivetevi se non lo aveste ancora fatto, condividete questo video con tutti i vostri amici appassionati di Titanfall 2 e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!